Dai, così devi fare in continuazione, e vai, dai recupera, vai, 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 schioppa il il cuore del tono. Se schiompa a te il cuore, devo farci il fioffato, la piettarezza, 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 e ancora c'è sto cazzo del giubbetto del cazzo. Adesso ci sarebbe da fare una chiamata al bambino della minchia e dire c'ha morto il che non c'è, non c'è nulla. E' stressante! La lotta contro il mostro chi vincerà? Per il mostro! La lotta contro il mostro! Speriamo che almeno fa 100 kg Se lo tiriamo su fa 40, ti ammazzassi! Via la canna, la canna, guarda qui! Guarda un po' se vedi il bianco sotto! Questo si è partito un'altra volta! Sono un cazzo! Si, avete 20 libri! È la maggior 7 adrett! e e e e e e e e e ma questo li fatti sempre, come un po' che tiro su, perfilo scori non non sei stanca, i dirmi fatti acostare puramente fatti acostare le stagioni ad attacca lei Voi, d'artarù! Voi, d'artarù! Dai, porca puttana! Va ancora a tirare! Abbassai un po'! Poco, poco! Era troppo facile cacciare i 130 libri Ed ecco il righetto finalmente in barca Danno un po' le spugne La sarda sta qui Ecco il righetto che si è preso nel culetto Ecco Fabio contro il righetto